Salve a tutti, sono Gianluca Landi e faccio questo video per spiegare le mail che MuchBetter ha mandato a tutti gli utenti oggi pomeriggio. In tanti hanno già scritto sul mio canale YouTube per chiedere chiarimenti, gli amici mi hanno chiamato e quindi andiamo subito a vedere le mail e spiego cosa è successo e cosa succederà in questi giorni. Vi dico subito che non è una situazione che è stata gestita molto bene, anzi direi proprio per nulla, hanno poi lasciato le persone in balia degli eventi ed è stata revocata in questi giorni, il 23 come vedremo, la licenza a chi dà i servizi a MuchBetter, non a MuchBetter. Andiamo subito a vedere le mail così la commentiamo e la vediamo subito. Ok, questa è la mail che è arrivata a molti di voi. Quindi cosa c'è scritto? C'è scritto che il 22 di giugno la banca di Lituania ha revocato la licenza a UAB Payernet che è il sistema di pagamento ad cui si appoggia a MuchBetter. MuchBetter non avendo le licenze per poter vendere servizi finanziari in Europa si è affidata a una società che è grossa, che ha sistemi di pagamento, quindi ha possibilità di emettere carte di credit, carte di debito, quella che voi avete e tutti i servizi finanziari. Si è appoggiato a questa che ha preso la licenza con la banca di Lituania. Sapete che in Europa basta prendere una licenza con un paese membro dell'Unione Europea e si può vendere i servizi in tutti i vari altri stati e questo è quello che è successo. Quindi di conseguenza cosa succedeva? Non poteva nessun modo MuchBetter o questa società inviarvi dei soldi, i vostri soldi indietro, se non c'era una licenza valida e la licenza gli era stata sospesa. Ecco perché anche se c'erano i soldi voi non potevate ricevere nulla, perché la licenza è stata sospesa e non potevano mandare i soldi, perché a questo punto si trattava di fare un reato finanziario, cioè inviare soldi a qualcuno, quindi fare da banca senza averne le licenze. Quindi il 22 giugno c'è una data, la banca di Lituania ha tolto la licenza a questa società, a Pairnet, perché ha fatto tutta una serie di cose non promesse, quindi anti money laundering, reporting, non è stato molto attento alla salvaguardia dei fondi dei clienti, è stato sanzionato, tantissime altre cose e quindi gli hanno revocato la licenza. Adesso cosa succede? I soldi sono su dei conti segregati, cosa vuol dire? Le istituzioni finanziarie devono avere dei conti segregati in cui nessuno può accedere, dove vengono messi i soldi dei clienti, quindi questa società deve avere messo i soldi che sono sulle carte e sull'applicazione di Match Better all'interno dei conti segregati. Quindi adesso parte il processo di rimborsare i clienti. Qui sotto c'è scritto, vedete qua, c'è scritto dalla data che hanno tempo, da quando è stata revocata la licenza, quindi il 22 giugno, hanno tempo 15 business day, quindi giorni lavorativi, per andare a fare il rimborso. E questa scadenza è il 14 di luglio, quindi la società cosa dovrebbe fare? Cosa deve fare adesso? Deve andare a vedere tutti i conti dei vari clienti, i soldi che ci sono e contattarvi per inviarvi direttamente i soldi a voi. Poi dice sempre, se ci sono delle problematiche, ci possono essere altri due ulteriori mesi, da quando è stata revocata la licenza, è il termine ultimo, perché la società rimanda i soldi a voi, è il 22 agosto. Sotto, poi allora cosa viene ancora spiegato? Vedete qui ci sono altre cose e spiega e dà un consiglio, questo è Match Better che dà un consiglio. Match Better dice intanto che si mette in contatto con loro per cercare di velocizzare questo procedimento, di mandare i soldi indietro a tutti. E poi suggeriscono comunque di contattare direttamente a queste due email che è la società, quindi Vilnius e Complian, Payr.net, e di mandarla in copia alla banca di Lituania. L'ultima, questa qua ultima, è la mail della banca di Lituania. Quindi voi cosa dovete fare adesso? Dovete, suggeriscono loro, di mandare un email con vostro nome, cognome, dove farvi mandare i soldi, quindi metteteci l'Ivan, il numero di conto, l'intestatario del vostro conto corrente. Quanti soldi avevate sopra? Quindi fate uno screen che si veda chiaramente i soldi che voi avevate sul conto. Fate uno screen, gli scrivete tutto dove mandare i soldi e li mandate a tre email, a queste due e in copia alla banca di Lituania. Così loro hanno, diciamo, le informazioni di tutti i clienti e vi possono rimandare i soldi più velocemente. Comunque sono loro che devono mettersi in contatto con voi. Però io vi suggerisco di intanto di mandare le mail a loro e alla banca di Lituania in copia, così anche loro hanno conto dei clienti di quanti soldi devono mandare. Quindi qualcuno mi ha detto che sono tornate delle mail indietro. Aspettate, l'email è arrivata oggi, probabilmente ci può stare che Compliant dovrebbe essere attivo questa email. Presumo anche l'altra, però ci potrebbero essere state qualche problematiche. Comunque voi mandate le mail e state attenti perché vi devono contattare in questi giorni per darvi i soldi. La situazione è stata gestita malissimo, proprio malissimo. Si è arrivata a questo punto con queste email e quindi, ripeto, non è stata una cosa molto bella quella che è stata fatta. Ma più che è stata fatta è che è stata gestita anche da Much Better, anche se Much Better in teoria, tra virgolette, ci entrerebbe poco perché è quest'altra società di cui loro si sono affidati. Però insomma, il nome, la faccia, il logo ce l'ha messo Much Better. Quindi voi avete aperto il conto con Much Better, non con quest'altra società che sino a qualche mese fa non sapevate neanche che esisteva. Quindi loro dovevano gestire sicuramente meglio tutta la situazione. Comunque, adesso Much Better si mette in contatto con loro, cercherà sicuramente di aiutare la società per farvi rimandare i soldi indietro. E poi, se qualcuno lo vorrà, Much Better ha detto che ha una nuova soluzione, quindi a breve ripartirà Much Better con un altro sistema di pagamento in Europa, perché fuori funzionano ugualmente e quindi chi vorrà adererà nuovamente ai nuovi servizi di Much Better. Ovviamente chi non lo vorrà fare, insomma, uno lo capisce perché insomma con tutto il tempo che è passato e tutte le cose, ripeto, non è stata una cosa molto molto bella. Quindi, mi raccomando, ci sono adesso delle novità, ci sono delle scadenze, quindi incominciate a raccogliere tutte le vostre informazioni e mandatele direttamente alle due mail per vedere di sbloccare più velocemente, così possono dare i vostri soldi più velocemente. I soldi sono su dei conti segregati, devono stare lì, c'è scritto che ci sono delle evidenze che i conti sono tutti di sopra, comunque mandate tutto velocemente in modo da riavere i soldi il prima possibile. Ciao a tutti da Gianluca Landi